Per comprare col giocatore è per forza shoppato, pagato, hackerato. Google, ritarda di 5 minuti. Certo. Piccolo, ma stai ancora dormendo? E poi vestito? Spegliati, ma la sveglia non ha suonato? Sì, ha suonato, però ho rimpostato Google 5 minuti più tardi perché ho ancora sonno. Google, e chi è? Un tuo amico? Mamma, ma me l'hai regalato tu al mio compleanno, non ti ricordo. Io al tuo compleanno? Google. Muoviti che è tardi, andiamo, dai. È strano, oggi Laura, sembra più vecchia di mio padre. Nicolò sei in ritardo vai subito a sederti che abbiamo già cominciato forza Allora ragazzi la volta scorsa abbiamo parlato del disastroso terremoto dell'Irpinia In Irpinia ma non è in Turchia Nicolò in Turchia ma cosa dici? Ma non è che stamattina hai bevuto del vino al posto del latte? Ma come prof? Mi riferisco al terremoto avvenuto un mese fa in Turchia Precisamente il 6 febbraio 2023 che ha causato più di 14.000 vittime Ma sei impazzito Nicolò? Ma guarda che giorno è oggi? Guarda! 9 marzo 1985 Nicolò che dici? Sabato vogliamo andare al cinema? Danno ritorno al futuro Ma mamma un'altra volta ritorno al futuro? L'abbiamo già visto tante volte In tv con i pop corn non ti ricordi? Nicolò in tv? No! Ma quello adesso è uscito al cinema Vabbè vado ad aprire io Ehi e che ci fate qui? Non ti ricordi? Ci diamo da riappuntamento per la ricerca di storia Perché insieme si fa prima e ci divertiamo pure In realtà per le ricerche scolastiche preferisco affidarmi al mio computer Ma visto che siete già qua, accomodatevi La scomodatevi Wow, abbiamo già finito. È vero, insieme si fa prima. Hai visto? Che ti avevo detto? Adesso ci meritiamo proprio un bel torneo alla PlayStation. PlayKey, ma oggi c'è tutto strano. Ma come PlayKey? La PlayStation. Ragazzi, mi è venuta un'idea. Ragazzi, mi sa che si è fatto tardi, dobbiamo andare. No, dai, rimanete un altro po'. Avvisate i vostri genitori con un vocale su WhatsApp. Certo che oggi sei proprio strano. Ragazzi, se volete chiamare a casa, il telefono è lì. Perché non chiamiamo Glovo per una pizza? Glovo, ma cos'è? Una nuova pizzeria? Glovo. Nicola, piuttosto, va a prendere i soldi, ci pensi alle pizze, dai. Ma mamma, cosa sono questi? Sei diventata per caso la spacciarice di Bancolo de Paz. Avete visto vialli che te l'ha fatto domenica? Vialli? Ma non è morto un paio di mesi fa? Nicola, certo che la devi essere proprio la stampa dei vialli più spacciato. Basta parlare calzo, io preferisco imitare i balletti di Lorella Cuccarini il sabato sera. Sì, a Sanremo ha conquistato tutti con il suo tormentone la nottevola. La Cuccarini a Sanremo con la nottevola, ma oggi è il cervello fuso. Io adoro i suoi balletti del sabato sera, fantastico, è fenomenale. Ragazzi, mi sa che arriva da mamma, dobbiamo andare. Ragazzi, grazie, è stata una giornata diversa dal solito. Poco internet, ma tanto divertimento. Ci vediamo domani a scuola. La Cuccarini è stata una giornata diversa dal solito. Raga, non l'avete visto Mario Furi? È come, è la mia serie preferita. Io so a me la terza stagione. Io a te l'hai finita la terza stagione, è bellissima. Io non l'ho vista. Ma veramente? Ma te non l'hai vista. Ma neanche io. Raga, ma chi ha Nicola? Boh. Ehi Nicola, oggi ti va alla solita partita a FIFA? Dai, così oggi vi grappo tutti. Sìììì. Raga, purtroppo io oggi non posso. Raga, ma basta con questi giochi virtuali. Io voglio correre, cadere, rialzarmi, voglio sudare. Voglio provare tutte queste emozioni con voi. Voglio provare la vera gioia di stare insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.